Il duetto di Marzia e Veronica Sono Marzia Ferrini e Veronica Di Rosa, allievi della scuola di canto Music & Dance, le vincitrici della non-edizione del concorso Canoro Io Ci Provo, che si è conclusa a Popoli lo scorso 9 agosto. Già nel 2011 Marzia e Veronica avevano riscosso successo conquistando il primo posto. La manifestazione, che ha visto in passato la partecipazione di voci, poi giunte alla ribalta del panorama musicale nazionale come Nicoltuzzi e Gio Di Tonno, ha avuto come ospite Stefano Dorazio, ex batterista dei Pù, che quest'anno si è presentato in veste di presidente di giuria del festival. C'è una cosa che credo sia molto importante quando si cantano delle canzoni, è pensare a quello che si dice, no? E quindi in qualche maniera riuscire a comunicare delle emozioni. E qualcuno di voi ci è riuscita stasera e chi ci è riuscita appunto è veramente 600 metri avanti. Io Ci Provo, presentata da Lucia Cuzzupoli, affiancata da Marco Cianfaglione, è una rassegna di voci scovate tra gente comune, dotata di talento, a cui viene data la possibilità di esibirsi di fronte a un pubblico e magari di coronare il sogno di diventare un giorno famosi. Grazie. Grazie. Grazie.